buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di motorsport manager qui Mike senza nome e come avevo promesso ho intenzione di portare alla fine questa prima stagione ci mancano un paio di gare due tre gare se non ricordo male sono ancora messo su per giù un po maluccio ma ce la possiamo fare intanto abbiamo problemi al server la signorina e mi crebbe tre che sarebbe più o meno e mi granchio albero che la mia assistente ovviamente scelta da me personalmente signora granchio albero mi dice che ci sono dei lavori da fare al centro database e che il presidente vuole aggiornare l'intero sistema ma ovviamente mi costa 500 mila euro oppure il presidente si incazza e cosa facciamo in questo caso andiamo a vedere un attimo cosa ne pensa il presidente il presidente è stra felice stra felice molto felice tutto quello che abbiamo 6 milioni e 400 io direi che i soldi ce li possiamo anche tenere vediamo un attimo gli sponsor cosa dicono allora abbiamo risultato da raggiungere per la golden tiger per 9 gare pagamento di anticipo 900 mila e 200 mila a gara sono 1 milione 8 solo per le gare qua qui abbiamo 1 milione 8 per le gare e basta e qua abbiamo più o meno abbiamo un milione e mezzo più 300 mila di anticipo io a guardare queste cose qua ovviamente scelgo la golden tiger che mi darà 900 mila subito più un bel po di bonus anche perché 9 gare si vabbè chi se ne frega slot invece qui per sesto superiore e qua ci sono già delle cose più interessanti questo è solo per 7 gare queste per 12 gare riesco arrivare sesto superiore la domanda diventa già interessante qui ottavo e superiore è già qualcosa ma sesto superiore diventa una sfida pagamento in anticipo state 150 mila e ci dà invece 650 mila a gara dipende quanto sono avido in questo caso il sesto posto diventa abbastanza difficile quindi mi tengo i gender mole media e pazienza ragazzi pazienza 7 milioni e mezzo adesso posso potenziare qualcosa a quartiere generale ovviamente no perché se non ricordo male servono 8 milioni eccoli qua 8 milioni potenziamento mi dice è bello mio e i soldi che li tira fuori ma si potenziate prestazioni quelle robe lì non so neanche cosa state lavorando fate quello che volete perché per quello che vi pago perché voi siate intelligenti iniziate una nuova votazione stavolta il tema è gare da 18 giri di media io la verità vorrei andarmene fuori dalle balle sinceramente da questa categoria ad ogni modo una gara standard circa 18 giri su un tracciato medio un buon equilibrio tra il caos delle gare corte e la qualità di quelle lunghe questa regola ha vantaggio le scuderie di livello medio la octane io l'exala e quell'altro e basta questa regola non ha vantaggio le scuderie di basso livello a favore qua sembrerebbe che ci sia solo un tizio ma in realtà non si sa io ho due voti non posso neanche ma vabbè stesso ho due voti per le gare da 18 giri di media che vuol dire che saranno anche più lunghe ma io sinceramente le gare di 18 giri mi fanno schifo quindi mi astengo contro ci astiene contro finora non sembra stia andando tanto bene per le gare dei 18 giri quindi me lo sarei preso in quel posto sicuramente anche a sto gira ecco appunto benissimo un solo individuo ha votato a favore e gli altri ciao il voto della gara 18 giri è finito è stato respinto grazie Ernie prego Ernie aggiungere Pechino safety car virtuale e minare punti e non c'è altro da votare a quanto pare quest'anno va bene andiamo avanti cosa 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 Luigi Marchetta star di cosa ma chi è sto qua chi è che scrive Jonathan Weinstein Luigi Marchetta ha partecipato a una corsa locale organizzata per divertimento vicino alla sua città d'origine alla sua città d'origine Italia gli abitanti erano entusiasti per la presenza del pilota uno dei presenti ci ha detto mi sono rivolto a mia moglie sbalordito accidenti è proprio Luigi Marchetta non credevo ai miei occhi la sua grande delusione la star ha mancato il podio ha ricevuto in premio una medaglia di cartone e una bevanda energetica ma Marchetta ci ha abituato alle medaglie di cartone state tranquilli la mia prestazione è stata pietosa ma bellissima giornata ha detto Marchetta corsa per divertimento commerciabilità più 10 bravo e per beneficenza ci piace la beneficenza ci piace bravo Marchetta a Milano noi felici noi andiamo a Milano noi felici noi andiamo ci teniamo all'ottavo posto superiore con la montatura dei componenti i componenti van bene sono sempre quelli abbiamo da fare 13 giri 6 km di sponsor o abbiamo secondo superiore che è una follia pura o abbiamo ottavo superiore o treicesimo superiore migliori risultati ultimi tre gare secondo secondo ottavo quindi per non saperne leggere e scrivere Gian Dermole vieni con me e andiamo a fare la gara a Milano speriamo che Marchetta si pigli qualcosa di più della medaglia di cartone che ha preso nella scorsa gara qua in patria quindi iniziamo subito le prove libere siamo a Milano abbiamo 13 giri da fare quindi con due pit ce la caviamo vero ragazzi? vero? perché voi siete dei grandi esperti Tavir già record di qua record Marchetta stabilisce un tempo più veloce nel settore 2 mamma mia Marchetta tutte con le morbide cosa mi nascondono questi bastardelli la Dreyfus è contenta brava cucciola brava spingi Marchetta primo addirittura attenzione uno non lo guarda e lui è primo a Dreyfus quindicesima Marchetta secondo nelle prove si vede l'esperienza l'esperienza di un uomo di un baffo fantastica sessione Mike Simpson avrà un sorriso a 32 denti sì ne uno in più ne uno in meno 32 andiamo allora Luigi Marchetta Marchetta intanto le gomme morbide si sono più lentamente ci va bene poi abbiamo l'assetto da gara la Dreyfus ovviamente il cambio gomme è più veloce e gli diamo l'assetto da gara anche lei setup della vettura qua diventa la cosa dolente allora se ne fa nel setup iniziale era tutto ok ok poi aumenti la velocità massima e gli fa cacare quindi devo devo ridurre un po' di qua giusto? buono abbiamo il setup di Marchetta siamo pronti confermiamo la Marchetta la Dreyfus a sua volta passa un 87% un 77% quindi sappiamo che il carico aerodinamico ci va bene un po' verso sinistra tutto il resto invece faceva cagare carburante sempre quella la storia strategia allora la strategia iniziamo con due strategie abbastanza simili ma non uguali nel senso che la Dreyfus attacco sorpasso attacco sorpasso va bene fa stesso iniziamo la gara ovviamente abbiamo gli scarsoni davanti come sempre io sarò da metà in poi da qualche parte ecco qua sedicesimo la Dreyfus diciannovesimo Marchetta a bosto i boss Beauchamp e Gerard iniziano con le medie e partenza partenza mancano 13 giri grazie sono appena partito mancano 13 giri buttalo fuori buttalo fuori e si fa superare da Beauchamp a posto a Dreyfus perde posizioni ma si normale diamogli tempo guarda Marchetta che supera di nuovo Beauchamp e si mette all'interno forse si sta facendo botte con la Dreyfus la Dreyfus che non vuole spingere più di tanto dai bella mia su veglia Marchetta sedicesimo bisogna recuperare posti qua Dreyfus guarda come si inserisce no ma Gerard non la fa passare dai va va marchetta lascia scoperto all'interno così la Dreyfus passa e con la sua spavalderia passa anche Marchetta sul rettilineo e se ne va si ciao Marchetta si fa superare anche da suo nonno si andiamo disse la Dreyfus andiamo bella andiamo c'ha già dietro la Dreyfus adesso c'è la davanti vabbè come non detto sto zitto che faccio meglio vabbè Marchetta ho lasciato passare Beauchamp maledizione non va bene si beh tra un po' fai passare anche Arbello stai a posto ciccio bello eeeh si allora Marchetta cambiamo strategia subito perché se no qua ci si surriscalla tutto e col cacchio che arriviamo alla fine buon fatti superare anche da lui buono così Marchetta problema 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 tecnico per già attenzione adesso intanto stabilisce il record e corre come un pazzo la Dreyfus è quattordicesima tranquilli quattordicesima sedicesima cosa cambia tanto girerà già hanno le gomme che non le hanno consumate praticamente per niente come fa già a stabilire un tempo più veloce nel settore uno che con la macchina spaccata e tutti entrano nei box tutti entrano nei box io mi faccio un altro giro invece con la Dreyfus oddio entrambi hanno bisogno di entrare nel box dannazione mettiamo le morbide per lei mettiamo le benzina i componenti vanno bene ci serve che sei veloce come un dicesimo ma sei pazza va bene va bene è la mia piano col carburante adesso piano se no non ci arrivi mica a fine giro fine giro archetta carburante scarso anche per te si lo vedo tu invece hai bisogno delle gomme stesse gomme i componenti vanno bene pit stop veloce pit stop anche tu quelle cose che non si fanno io le faccio sempre ossia tipo mandare di nuovo entrambi ai pit contemporaneamente praticamente ma non è che sono troppo distanti eh sabato e valdese compagnia bella eccola qua Dreyfus ai pit dai 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 Dreyfus dai che la Dreyfus esce dai pit esce dai pit la Dreyfus è uscita si seconda terza Dreyfus bloccalo bloccalo brava Dreyfus vieni lì archetta no no abbiamo avuto problemi no no ma che problema va là figurati si avisce un tuo record eh si allora siamo al sesto giro su 13 decimo posto terzo posto per la Dreyfus che monta le medie adesso a differenza di Marchetta che va avanti con le sue morbide oh no questo pezzo reggerà l'alettone posteriore non può rompere le anima adesso Marchetta è quarto perché si è fatto superare sia da Sabato che Antonov Sabato addirittura con due soste si bella adesso entra i pit stai tranquilla pit stop anche per Marchetta che deve cambiare anche lui il set di gomme pigiarsi un po' di carburante e rientrare di nuovo in una buona posizione ovviamente perché se no non ha senso tutto ciò andiamo Dreyfus Dreyfus e pit subito rifornitela andate ma che errore errore ma che errore ma quale errore non ha già voi tutte queste posizioni perse così in modo stupido e vabbè ma allora è da licenziare qua è da licenziare ed è veramente il meccanico di Marchetta cioè non so sempre problemi ah che cacchio Dembélé invece non ha ancora fatto la sosta anzi perché va così piano Dembélé problemi tecnici ha finito il carburante probabilmente ha finito il carburante perché va lento come una fame tanto la Dreyfus mancano due giri e terza hai problemi al motore te lo tieni problemi al motore bello mio dai spingi qua nella curva in fondo abbiamo Valdes possiamo tirare su altri punti nella classifica dei costruttori quindi andiamo andiamo dai Marchetta spingi che Melo è lì vicino a te problemi tecnici per Marchetta ma ce la fa eccolo là Melo avanti avanti intanto la Dreyfus ho visto che si stava avvicinando in maniera abbastanza veloce a Valdes ma forse non riesce a riprenderlo aia no riesce a riprenderlo purtroppo peccato intanto vediamo Marchetta dai dai vai così grande uno è andato uno è andato e dannazione per un pelo superava anche Melo secondo posto e terzo posto e sesto posto veramente non male per questa gara a Milano un piazzamento complessivo abbastanza buono per entrambi i piloti adesso vediamo come è messa la classifica complessiva vediamo verso che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato contro gli auto bello mio io non ho niente da nascondere tira giù dal podio quegli altri e disqualificato abbiamo Arbeloa con una penalità di quattro posti abbiamo Tanvirja attenzione ah perché ha la penalità del drive-thru e anche la Cavalcanti pazienza pazienza non ce ne frega niente Dreyfus terza quindi 13 posizioni su due soste e Marchetta 13 posizioni su anche lui non so perché 13 posizioni a Dreyfus sul podio complimenti Dreyfus brava abbiamo quindi la classifica piloti Marchetta secondo a una distanza neanche di vario di 12 punti double champ niente di difficile impossibile da raggiungere e la Dreyfus che sale al quarto posto a meno 26 punti double champ mamma mia manca l'ultima gara in assoluto solo l'ultima gara e la Octane Racing si porta al primo posto nella classifica costruttori davanti alla Garuda Racing a meno 5 andiamo avanti ragazzi ultima gara l'ultima gara ci manca favoloso veramente spettacolare e così io direi che posso anche concludere quest'episodio di Motorsport Manager molto probabilmente il prossimo episodio sarà anche l'ultimo di questa prima stagione di Motorsport Manager non so se andrà avanti dipenderà molto anche da voi io vi ringrazio per l'attenzione sono Mike Senza Nome ci vediamo nel prossimo episodio passo e chiudo Mike Senza Nome ciao ciao